hai mai fumato? Allora dammi una scaletta, c'è? Fa male fumare 1 capirai, 2.000 e... 9 che... hai mai fatto sesso in bagno? No, sesso in bagno, cosa fai? Stai a letto, fanno Buongiorno a tutti ragazzi, Mati buongiorno, buongiorno Oggi ci ritroviamo in questo nuovo video a fare una e-mail, dobbiamo registrare due video con mia madre perché non lo so, mi piace un sacco registreremo la e-mail con le domande che ci avete fatto su instagram, spero che il video vi piaccia, e ci vediamo alle parti Lei non sa come funziona, quindi dovrò spiegaglierla Ciò c'è anche io, Xi'an, Voia woni, kuon ti Io faccio cose che sono cinese Io faccio cose che sono cinese Io faccio cose che sono cinese Vediamo se ho capito Sono certe domande che mi avete fatte che io non so tradurre in cinese, quindi dovrò tipo tradurne un attimo un po' il traduttore Avete mai pensato di tornare in cina per sempre? Dove c'è un po' questo cinese? No, io no Allora devi dire, devi mettere il no Non lo so che cazzo, ma si vede? Non so, no, lei no Perché no? Perché tu sta qua e io sto con te Oh, that's so cute Non è vero Hai mai baciato uno sconosciuto da ubriaca? No Can you see? Non è vero Non ci credo proprio Io non è vero Non ci credo proprio Non ci credo, no Non ci credo, no Oh my fucking gosh Vabbè, sei mai imbarazzante perché... No, non ci credo proprio Hai mai messo un vestito al contrario senza accorgertene di uscire così? Qualche volta Ma te come fai a capire l'italiano? Io lo so, mi devo solo si fanno fatti avanti Io no Io ci tengo un po' allo stile come vi vesti quindi no Una volta quando sono... Ah sì, sono sull'InstagramStories Sono sull'InstagramStories che una volta non mi sono accorta che ho la maglia al contrario Come l'avete detto, ho detto sì vabbè se ho la maglia al contrario e niente Ho messo a vedere la parola di miei soviena Hai mai vomitato in pubblico? No Non sai manca che vuol dire? Tu, tu Tu nel pubblico C'è... Tavano un po' che dice tu Io mi ho otto in pubblico? No Io sì Come no? È impossibile che mi mi ho otto in pubblico Perché ti ho otto tanto? Vabbè raga, vabbè lasciate ferme Hai mai fumato? Qua volta sì Anch'io No però Io sì, qualche volta Tu fumi nel bagno e c'è la puzza Sì, una volta Si è 30.000 volte fumando nel bagno Fa finta tipo che non ho mai fumato E io sento la puzza Sei fumata dove? Sì, ho fumato nel garage Sì? Allora dammi una scaletta C'è? No Bella volta Io non fumo, fa male fumare Sì Uno Fa male Che cosa sei? Uno, capirai Vabbè, lei quindi Enjoy the life Party hard with her Che cosa sei come? Hai mai tradito? Mi saluti, mi chiamo Desiree Dì ciao Desiree Ciao Stley Desiree Ciao Abel Ciao Abel Sei molto frasi Io sono anche io Nick Nick No Io no Povero momentata Hai mai baciato il tuo stesso sesso? Sì ma Sei baciato a stampo Hai baciato? No 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 Raga lei è ribadante dall'antilità Non conosce queste cose Adesso Io non ho No 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 Nella bocca Però io non ho No Hai mai bevuto fino a quando Non essere coscienti di ciò che fate? No 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 Sì 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 Sempre Io tutti i giorni Quando tu vai a lavora sì 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 e alle volte tu no è impossibile ci credete sì grazie sicuramente però una volta no sì una volta no quando si è tanti anni fa quando raccontano 2009 quando quando eri giovane un giorno dei giovani 45 anni sicuramente col babbo grazie sicuro avete visto tipo prima imbarazzata dopo metto il replay hai mai rubato in un negozio si certo lupare come no è impossibile non posso lo fare vabbè io l'ho fatto non interessa io faccio non interessa no scherzo non è vero hai mai fatto sesso in bagno no sesso in bagno cosa fai da letto fanno io sì facciamo un'ultima domanda perché è troppo lungo mi sono fatto il cazzo io mi sono fatto il cazzo io mi sono fatto il cazzo sicuro non penso roba no hai mai pensato al suicidio? qualsidio? non si sa io mi sapevo mai di farlo nooo no mai io non sono contenta io non ho molti perché no perché devi fare questa devi essere contenta nella nostra vita non bisogna suicidarsi perché è un modo per scappare da qualcosa noi mi vanno affrontati e risolti vero? per vivere c'era per vivere no? per comprare a mangiare c'è cazzo sempre ma capito risolti con soldi eh vabbè per questo ahimai questo video è finito qua voi non la conoscete tanto bene quindi bisogna fare un video di poche per conoscerla meglio lei ama un sacco fare le foto è vero? ci vanno un sacco fare le foto quindi avevo pensato è carino se gli apro un account in instagram tipo si e vuole diventare la mamma più famosa su instagram è vero? certo qui tra instagram allora non gliela fa di loro non lo so perché qui tra instagram più famosa d'italia d'italia cina appena finito questo video faremo una foto insieme perché registriamo un altro video aprirò un account per lei su instagram fate diventare una più famosa d'italia poi magari tipo faccio un video in cui insegno come si utilizza instagram mi faccio fare tipo le storie sarebbe tipo figo dovete squirmi su cazzo di instagram su cazzo di instagram ahah ahahah ahahah facciamo il video dove balliamo nel suo instagram quindi facciamo anche un video dove balliamo nel suo instagram ok? ok ok dimmi no chiudi? chiudi però già chiuso ciao a tutti io e mymamasit abbiamo appena registrato un video così da anche capire e spero che niente tra un po' gli aprò un po' di instagram perchè lei venite a causa ciao a tutti 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 ciao a tutti